Ci sono dei luoghi periferici, il quartiere di Rebibbia è uno di questi e poi ci sono dei luoghi nascosti e separati dove vivono persone periferiche alla vita. Il carcere è uno di questi luoghi. Una piccola architettura può costruire un modo e anche un luogo per vivere dei momenti di vita normale. Il modulo per l'affettività e la maternità è uno spazio di incontro tra le detenute e le loro famiglie. È uno spazio dove sarà possibile consumare un posto e trascorre del tempo insieme, ricreando una dimensione domestica. Volevamo che fosse un progetto realizzabile all'interno della struttura stessa, con il coinvolgimento delle detenute. Fondamentale è stato anche il lavoro dei detenuti del carcere di Viterbo che hanno prodotto e assemblato tutto il materiale necessario. Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione con il Ministero della Giustizia e sponsor esterni ed è pensato per essere un prototipo moltiplicabile e riproducibile anche all'interno di altri istituti. Grazie